La videocamera MyDiLink Cloud Wireless N diurna-notturna DCS933L è un ottimo prodotto per monitorare tutto quello a cui tieni di più, bambini, casa, ufficio, animali o persone anziane, quando sei lontano, anche tramite l'applicazione MyDiLink e lo smartphone o il tablet. La configurazione è facilissima. All'interno della confezione troverai la videocamera, il cavo d'alimentazione, il cavo Ethernet, la guida all'installazione, il CD di installazione e le istruzioni dettagliate. Per prima cosa inserisci il CD nel computer. La configurazione verrà avviata automaticamente. Seleziona la lingua di preferenza e clicca su Start. Leggi e accetta i termini e le condizioni, quindi vai avanti. Le istruzioni a schermo ti guideranno in tutti i passi necessari. Inizia collegando il cavo Ethernet alla porta sul retro della videocamera. Procedi. Inserisci l'altra estremità del cavo Ethernet in una porta LAN del router. Fai clic su Avanti, quindi inserisci prima il connettore dell'alimentazione sul retro della videocamera, poi l'adattatore in una presa di alimentazione. Seleziona Avanti per confermare l'installazione del cavo Ethernet e dell'alimentazione. Il LED, posto sul retro della videocamera fisso sul verde, indica che la videocamera è pronta. A questo punto procedi confermando l'installazione. Il sistema inizierà a cercare la videocamera MyD-Link. Una volta rilevata, selezionala sulla sinistra dello schermo e inserisci la password utilizzata per accedere al servizio Internet. Cliccando su Avanti, la password verrà salvata automaticamente. Ora è il momento di scegliere come connetterla alla videocamera alla rete, con cavo o wireless, per la massima flessibilità d'utilizzo, quindi seleziona Avanti. Il sistema richiederà di attivare i servizi MyD-Link. MyD-Link consente di visualizzare le videocamere sempre e ovunque su Internet, tramite computer, smartphone o tablet. Se non possiedi già un account, è necessario crearne uno. Inserisci i tuoi dati, conferma di aver letto i termini e le condizioni, quindi seleziona Avanti. La configurazione è completata. In una piccola finestra sullo schermo vedrai esattamente ciò che vede la videocamera. Per accedere a MyD-Link facilmente, puoi aggiungere un collegamento rapido sul desktop e un link ai preferiti sul browser. Clicca su Fine per confermare la configurazione. Questo passaggio conduce direttamente alla pagina iniziale di MyD-Link. Una volta effettuato il login, vedrai lo streaming della videocamera dal vivo. Inoltre, è possibile configurare la videocamera DCS933L in modo che invii notifiche e email quando rileva suoni o movimenti. Basta inserire i dati richiesti, selezionare gli eventi per cui si desidera ricevere un avviso e salvare. La registrazione su MyD-Link consente di monitorare la videocamera ovunque ti trovi utilizzando il tuo dispositivo mobile. Per configurarlo, scarica l'applicazione MyD-Link dallo store. Una volta installata, accedi con la password MyD-Link e potrai vedere tutti i dispositivi MyD-Link installati dal telefono. Tutto qui. Grazie per aver guardato questo video. D-Link, building networks for people.